Ciao a tutti, vediamo in questo video le quattro abilità per diventare leader. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, quali sono le quattro abilità che dobbiamo sviluppare per diventare leader? Il leader è una persona che guida, to lead significa guidare. Allora, ci sono quattro abilità che devi sviluppare se vuoi diventare leader. La prima sono le capacità personali. Cioè, cosa sono le capacità personali? Le abilità che tu hai, le capacità che tu hai in qualunque settore. Ad esempio potrebbero essere capacità comunicative oppure potrebbero essere competenze, competenze in un certo settore. Cioè, se tu vuoi emergere, diventare leader in un settore, devi sviluppare quelle competenze. Che può essere la politica, un leader carismatico può essere la spiritualità, lo sviluppo. Diciamo che il top delle competenze personali potrebbe essere visto come l'illuminazione nel settore della spiritualità. Però, se vuoi diventare leader, che ne so, leader mondiale in un prodotto, devi saper fare quel prodotto meglio degli altri. Quindi sono proprio le capacità personali. È fondamentale sviluppare le capacità personali. Non le impari in un giorno, è un qualcosa che cresce continuamente, vanno coltivate costantemente e continuamente. Perché per avere credibilità in un qualunque settore, ad essere quindi diventare leader, devi sviluppare le capacità e le competenze di quel settore. Quindi devi diventare bravo o brava. E questo è molto importante. La seconda abilità sono le capacità relazionali. Cioè, la capacità di coinvolgimento che hai nelle altre persone. Quindi sviluppare le capacità relazionali significa avere la capacità di sedurre e di persuadere. Teniamo presente che persuasione e seduzione differiscono dalla manipolazione. Qual è la differenza? Beh, la seduzione utilizza una comunicazione interattiva. Cioè, si dà un servizio emotivo in cambio di un servizio logico-razionale. Nella persuasione si convince, diciamo, a livello cognitivo, razionale, di una certa tesi. Convincere vuol dire vincere con. Quindi si crea una situazione in cui entrambi le persone che interagiscono hanno un vantaggio. Quindi nelle capacità relazionali, sedurre e persuadere significa che tu comunque dai un vantaggio. Vediamo ad esempio nella seduzione. Quando tu seduci una persona, cosa vuol dire sedurre una persona? Vuol dire coinvolgerla a livello emozionale. Ma se tu la seduci, vuoi sedurle perché in qualche modo sei stato già sedotto, coinvolto. Quindi hai già voglia di interagire con questa persona. Ecco, quindi che le capacità di seduzione e di persuasione sono fondamentali per un leader. Perché da solo non puoi fare tutto. E' evidente questo, no? Se uno agisce da solo, sempre da solo, magari va più veloce, fa più in fretta certe cose. Ma se vuoi andare più lontano, devi avere altre persone. Quindi devi creare un team, devi creare un gruppo da guidare, per essere leader, una comunità. In qualunque forma essa sia. Però devi sviluppare questa competenza. Quindi è molto importante. Quindi imparare a comunicare meglio per sedurre e persuadere. Poi la terza abilità che ha un leader è la vision. Una strategia. Deve avere una visione. Deve sapere dove vuole andare. Un leader deve avere una strategia. Se tu non hai strategie, qualunque cosa tu faccia, la fai un po' a caso. Diciamo, avere un piano, una strategia, un planning è fondamentale. Saper pianificare, saper definire gli obiettivi è veramente importante, basilare e fondamentale. Quindi se non sviluppi queste caratteristiche, difficilmente riesci a ottenere, riesci ad essere un vero leader. Perché è una visione che devi comunque comunicare al tuo seguito, alla tua community. Devi rendere partecipi gli altri di questa tua visione. Fondamentale, fondamentale. Se non c'è una visione, non si può essere un vero leader. E poi l'ultima capacità è la capacità sistemica. Che cos'è la capacità sistemica? È una capacità di sistema, cioè di creare dei benefici per tutto il sistema circostante. Avere un impatto ecologico. Un impatto ecologico positivo vuol dire che non devi fare danni. Cioè la tua visione non deve fare danni all'ambiente, non deve fare danni alle altre persone, non deve fare danni alla comunità in generale. Perché è un vero leader è quello che produce vantaggi. Produce vantaggi un po' per tutti. Questa è una capacità sistemica. Perché altrimenti, se tu non produci vantaggi, non produci miglioramenti. Intanto, come dire, non sei un leader perché potresti essere, come dire, pure un dittatore. Può, diciamo, essere leader, ma gli manca la capacità sistemica, la capacità di generare un beneficio per la comunità nella quale interagisci, con un impatto ecologico positivo per tutti. Ecco, queste quattro caratteristiche sono le vere abilità che ha un vero leader. E quindi devi porti delle domande, cioè anche sull'abilità sistemica, ad esempio. Quello che sto facendo, la mia visione, che impatto ha su tutto quello che mi circonda, come potrebbe essere utile per una comunità, un gruppo, o addirittura, meglio ancora, per il pianeta. Ecco, queste sono domande che vanno fatte ed è l'abilità sistemica che va coltivata, sviluppata, aiutata. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al canale. Ciao! Ciao!